L'obiettivo è quello dei 5.000 alberi, la forestazione urbana, tema, sappiamo, particolarmente importante per i destini del nostro pianeta. Rialza la cresta, il gallo Pelotti! La 35esima giornata, quando hai fatto la tripletta, 300 alberi piantati a nome tuo, noi siamo l'applicazione ufficiale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e l'artista, che è un'artista di Torino, ha fatto una personalizzazione apposta per te, che credo tu possa riconoscere. Grazie, perché appunto con questi tre gol, oltre a aver riconfermato le tue grandi doti calcistiche, hai veramente fatto tantissimo per il pianeta, tre gol sono 300 piante che sono state appunto piantate in Guatemala che sosterranno anche delle famiglie, quindi in quella giornata hai fatto felici i tuoi tifosi, ma anche tutto il pianeta e le generazioni future. Una cosa più bella. Ciao Andrea, buon appetito, ciao a tutti. Ciao a tutti.